Anche per l'anno 2017 l'amministrazione di Piedimonte Etneo guidata dal sindaco Ignazio Puglisi si è ridotta del 50% l'indenità di carica, mantenendo assieme ai suoi assessori Enrichetta Pollicina, vice sindaco, Carmen e Basta, Luigi Leva e Santo Leva il primo degli impegni assunti in campagna elettorale con i piedemontesi. Quasi 38 mila euro spiega il primo cittadino puglisi che verranno utilizzati per far fronte ad esigenze di bilancio nell'ottica di risanamento economico del comune e per raggiungere alcuni obiettivi che indicheremo in sede di relazione del bilancio di previsione 2017. E' nella nostra intenzione acquistare un'autovettura da dare in dotazione ai vigili urbani potenziare i servizi sociali per gli anziani e i soggetti più bisognosi della nostra comunità e realizzare alcuni interventi di miglioramento dell'arredo urbano. Un forte segnale di coerenza spiega ancora Puglisi se chiediamo sacrificio ai nostri cittadini prima a dare l'esempio dobbiamo essere noi.